C'è l'olio che arriva, c'è chi pulisce, c'è chi allestisce, tutto questo perché tra pochissimi minuti arriviamo da voi con la nuova puntata di Cuochi e Fiamme. State lì! Benvenuti a una nuova puntata di Cuochi e Fiamme! E' il pubblico più caldo, più affamato, più casinista che c'è nel mondo televisivo italiano e se l'abbiamo noi! Grazie ragazzi, grazie! L'applauso prosegue per la mia spiegata giuria, elegantissima! Lei trasforma ogni piatto in un'opera d'arte, se l'ho impiatta, con le sue sante manine, Xaba dalla Zorsa! Ciao Simone! Grazie! Si è messa un gilet che prevede anche il togliersi le scarpe per entrare in casa, molto Japan! Lei è la mia attrice preferita, Francesca Reggiani! Molto bello, molto bello! Grazie! Molto bello! E per l'occasione si è messo anche in giacchetta, perché lui è d'origine nobile, ma come dico sempre, gli piacciono i piatti quelli concreti, materia prima buona, infatti è un buon gustaio! Grazie Simone! No, niente di che! Niente di che! Il filo della nostra lama, Simone Rugiatto! Della nostra lama? Lama! Comincia a piacermi questa cosa! Lo vedi liscio, seghettato, come lo vedi? Liscio tagliente! Liscio tagliente! Come l'olio! Liscio tagliente! E lisci dovremmo andare anche oggi, perché signori e signori, oggi cucino due cuochi! Oh, Mirko! Ciao Mirko, da dove vieni? Da Paliano! Da? Paliano! Com'è Paliano? Provincia di Frosinone, vicino Collefero, Valmontone, se sai... Ok, no, non conoscevo quello della precisione, fortuna vuole che giro tanto, che tipo di cuoco sei? Un cuoco di cucina laziale, classica, tradizionale... Non sei lo chef del ristorante, ma lavori in un ristorante? Lavoro nel ristorante! Ok! Ok! Lo diciamo, come si chiama? Le terre dei Clementi! Oh, facciamo anche un po' di pubblicità! Così, venite di venire! Ammazza che presa! Giovanni! Ciao Giovanni, da dove vieni? Ciao, da Roma! Che tipo di cuoco sei? Diciamo, io sto iniziando adesso, sono alle prime armi, però insomma, ecco, mi sto dilettando in questo momento, da pochi mesi. Come sapete benissimo, il nostro programma presuppone il far cucinare non professionisti, però c'è anche chi ci segue, che è appassionato di cucina o lavora nel mondo della cucina, ma non diciamo cuochi finiti fino in fondo, giovanissimo e comunque alle proprie esperienze Giovanni. Beh, dopo parleremo di voi. Prima di tutto sapete come funziona, la prima sfida non vi darà dei punti, però chi la vince sceglie dopo, è di manualità. Una ricetta innovativa, il boulevard con la salsa tonnata. Non è una ricetta in realtà, è un modo per vedere chi di voi ha più manualità e come l'abbiamo fatti noi, è ovviamente tonno, sott'olio scolato, capperino, acciuga, una buona maionese e in questo caso boulevard e si frulla tutto con il mixer immersione. Ora, visto che siete due cuochi, io il mixer ve lo tolgo, perché se è una prova di manualità la voglia al coltello. Anche se non sarà una salsa omogenea, però capperino e acciuga tritato finemente, tonno dentro tritato a sua volta, maionese e poi farcire boulevard. Tutto questo in due minuti. Via! Bravo Timo! Dai! Bravo! Ebbè, manualità, manualità fino in fondo. Di solito in questa fase non cerco di non rompervi le scatole, ma oggi invece mi divertirò parecchio a farlo. Ma tu quindi come ti esprimi culinariamente? Inizio da poco, ma che fai? Faccio qualche piccolo chef a domicilio, mi diletto con amici, parenti. Ah, ok, stai prendendo la mano con... Sì, sì, stai prendendo la mano, sì, sì, assolutamente sì. Invece tu, qual è il tuo piatto forte, così capiamo che genere di cucina hai, che corde... Piatto forte è un bel pacchero ripieno con mozzarella e ricotta di bufala, servito col pomodorino fresco, passato al forno. Lo faccio anche io il pacchero ripieno, spesso e volentieri. Buono, buono, buono. Ah beh, ho fatto bene a darvi il coltello, dai. Anche perché quando si fanno delle salse o delle creme, certo che il mixer aiuta e serve, è fondamentale per dare omogeneità a tutto, però se una parte interna la mettete anche tritata al coltello, vi dà una texture diversa. 22 secondi. Ah, io volo avanti. Questi si trovano già pronti, se no prendete due strati di pasta sfoglia, tagliate dei dischetti da uno e dei tondini dall'altro. Li incollate sopra e poi li infornate. Tre, due... No, ma fate col cucchiaino, fidate. L'incollate nel tempo. Anzi, guarda, facciamo una cosa. Stop al tempo. Visto che vi ho cambiato la ricetta, voglio valutare questa. Tanto se la mettete nel bulhavano, a questo punto è quasi una difficoltà. In più per i miei giudici, per la valutazione. Bravi, bravi. Due minuti, salsa tornata, fatta. Non si sa mai. Si sa mai. Questa qui c'è più brava dentro, mi sembra. Allora, guarda, quella secondo me è di più e fatta meglio, più omogenea come scrittatura. Questa? Questa è un po' di meno, Francesca, e dentro ha dei pezzi disomogenei. È un caso, eh? Avete creato un caso. Quindi? Mirko. Mirko? Mirko vince la parola di manualità. Eccoci. Allora, brasato di manzo o frittura di calamari? Non so se il manzo brasato in versione veloce sia finibile. Più veloce la frittura. Più che altro prendete subito confidenza con la cucina, non facciamo danni. Frittura di pesce, ok. Anzi, frittura di calamari, questo è il tema per la prova di abilità. Molto bene. Allora, frittura di calamari. Bona. Si può fare in tanti modi. Il migliore, secondo me, è quello più semplice, però non posso troppo aiutarvi. 45 secondi per te, Mirko, per prendere tutti gli ingredienti che vi servono. Questo succederà anche dopo. Se vi dimenticate qualcosa del campanello luccicante servirà per tornare in dispensa, oggi non ve ne passo una. Altrimenti avere un aiuto manuale del sottoscritto che, visto come siamo messi oggi, vorrei non darvi. Visto che siete già bravi di posto. Via, vai Mirko. Allora, io vado a dare la mia ricetta. Veramente difficile. È veramente complesso fare il fritto. Mi piace a me. Prendete dei calamari italiani. Tagliateli a rondelle e lasciateli lì. E poi vi mettete una bella bacinella con della farina di grano duro rimacinato. Vai Giovanni, da parte. Olio di semi d'arachide per friggere, almeno un litro minimo. Carta per asciugare il fritto. Sale. Limone? No. O meglio, fate voi dopo se vi piace, però io lo faccio puro, semplice. Oh, eccola lì. Sì, perché basta infarinarli la farina di grano duro rimacinato. Punto. E soprattutto la mia parte preferita da friggere è questa. Queste sono belle grandi. Attenzione. Allora, Mirko ha tirato fuori radicchio, pere, farina di grano duro rimacinato, zucchero. Che c'è là? Zafferano e miele. No, scusami, curry e miele. Curry. Qua abbiamo acqua gasata, presumo, per fare una pastella. Delle farine varie. Secondo me questo è di riso? Sì. Anch'io faccio così. Barba bietola, prosecchino, ultimi secondi. Tre, due, uno e stop. Cos'è questo? Olio di semi. Altro olio di semi. Sì. Ok, dieci minuti per fare un fritto buono e asciutto. Via! Ah, hai un miele allo zafferano. Miele allo zafferano, sì. Mi ero confuso. Ecco così. Vai. Allora, Mirko. Ok. Sono belli grossi, eh. Sono belli grossi. Quindi a seconda di come li friggerete, se infarinati, friggono lo stesso. Quindi staiate un filo più grande. Se impastellati, Giova, se impastellati, grossi così, forse è meglio un pelino più piccolini. Perché così dentro arriva a cottura per bene. Bravo. Allora, oggi mi danno una mano. Questa parte va sempre tolta, quindi il fondo della sacca perché diventa molto duro. Se friggete le teste, queste, queste è veramente grande, eh. Questo è veramente grande. È un capocciono. È un capocciono. È un capocciono come me. Lo tagliate in due. Bravo. Ora io non ho il coltello, però lo divido così e lo frigo anche singolo quando è grande così. Basta pensare al tempo di cottura che sta a bagno nell'olio e su per giù la reazione che avrà. Mirko, raccontami come lo elabori e poi ti chiedo un po' di robe personali. Sì, allora, tagliamo a rondelle il caramaro. Leggi, non troppo spesso e non troppo fini. Tu lo fai solo infarinato in... Solo infarinato alla rimacinata. Perfetto. Perché? Perché il caramaro o anche il totano hanno questa viscosità, tendono a appiccicare molto. Quindi senza nessun tipo di pastellaggio va anche bene perché diventa croccante per l'esterno della farina. La pera e il radicchio che ci fai? Per radicchio ci facciamo un contorno, radicchio passato così sulla piastra, sale e olio, aggiungiamo della pera... Ma aspetta, aspetta Mirko, abbi pazienza, ma non ti conviene mettere subito la piastra? Subito la piastra, hai ragione. Così mentre fai, intanto il pesce lo friggerai negli ultimi due o tre minuti. Ok. Radicchio alla piastra e pera come? Pera candita con un po' di zucchero di canna, ma leggera proprio. Padellina per la pera. Padellina per la pera. Ok. Mi raccomando, il tema è il fritto, quindi concentratevi sul fritto, eh Mirko? Sì. Voglio il fritto fatto molto bene. Ok. Allora Giovanni, tu invece come lo fai? Allora io sto tagliando i calamari, farò un impasto con tre farine diverse, quindi userò la 00, la riso e della Manitoba con un pizzico di sale e la preparerò con dell'acqua minerale e del prosecco. Acqua gasata e prosecco. Ok, la barbabietola come la usi? La barbabietola vorrei fare una maionese vegana con dell'olio di semi e dell'aceto. Allora, la farina 00 ha il glutine e quindi dà elasticità all'impasto, la farina di riso non ce l'ha e toglie l'asticità all'impasto, la farina di Manitoba è una farina di forza e quindi ti aiuta a tenere un po' tutto insieme. Farina di Manitoba che è uno degli ingredienti che va nell'impasto della pizza, soprattutto quelle pizze che magari non sono l'impasto giusto da cuocere per mangiarsi una bella pizza ma che volano per aria, giusto? Giusto, sì. Tu fai quello anche? Mi diverto, ho iniziato da poco con la pizza freestyle. Sì, sì, ci proviamo. Ma ci fai in maniera amatoriale o fai già concorso? Adesso di pizza freestyle solo amatoriale e poi ho fatto qualche gara di pizza a livello di pizza romana, pizza classica. Ah, pizza da mangiare. Pizza da mangiare, sì, sì. L'unica roba che voglio da voi è pulizia, quindi togliete i toti, i calamari o totani i calamari dal tagliere e lavorate sul pulito, mettetevi il pesce da una parte così sarà pronto per essere poi passato. Io a volte lo passo prima nella farina e lo lascio un attimo lì, con la pasta butto dentro, con la pasta e faccio uscire la farina in eccesso, se no sacchettino a casa scuotete in modo che ci sia una panatura bella precisa senza che vi si appiccichi alle mani, se no vi fa i pallini. Giovanni, l'olio di frittura è fondamentale che sia a temperatura giusta, quindi tenetevelo pronto perché se preparate tutto e avete l'olio freddo, non va bene. Capito Gio? Sì. Ok, Giovanni, tu invece, te lo posso alzare un pochino, controlliamo com'è, io utilizzo sempre lo spiedino. Allora Giovanni, prima di tutto, non vi ho chiesto, sei sposato, sei fidanzato? No, sono single. Sei single, sta bene. Con chi sei venuto oggi da solo? Sono con mio padre. Con tuo padre, chi è tuo padre? Dov'è? Ciao padre, come si chiama? Marco. Marco. Tu sei venuto da solo Mirko? Con papà anch'io, tutti con papà. Davvero? C'è un altro papà? Come si chiama tuo papà? Stefano. Stefano, Marco e Stefano, cucinate anche per loro ogni tanto? Sì. Vivi con loro? Sì, sì, vivo con i genitori. Bella vita eh. Allora, qua stiamo testando l'olio, devo ancora andare a dare la mia ricetta. È veramente semplice perché si fa così. Il pesce è buono, si passa a rondelle. Diciamo che se lo faccio nella farina, dipende dallo spessore del calamaro. Cioè, parliamoci chiaro, devo capire il tempo di cottura. Io li faccio di circa un centimetro e li passo nella farina. Li frigo con l'olio a 180 gradi per circa, dipende anche lì, due minuti, li lascio biancaste e appena si cominciano a colorare leggermente esternamente li scolo. L'importante è come li asciugate. Perché se li scolate uno sull'altro e li continuate a buttarci il pesce sopra, ovviamente, oltre che a impermearsi d'olio, il calore del fritto, di un qualcosa che asciugandosi poi diventa croccante, tende invece a trattenere il vapore che vorrebbe uscire e quindi se li sovrapponete si lessano e diventano mosci. Quindi stendeteli molto bene sul piano foderato con la carta o con la carta faglia, fateli asciugare bene e salateli soltanto al momento del servizio. Quindi prima li fate tutti e poi li salate. Addirittura se dovete fare una cena e volete fare un fritto, prefriggete prima, prefriggete prima. Li lasciate circa al due terzi della cottura, li asciugate bene e poi li rifriggete con l'olio molto più caldo per farli tornare croccanti. Questo anche e soprattutto se li fate impastellati. Dicevo, io non ci servo un limone perché se il pesce è buono non deve essere coperto da nessun tipo di sentore. Se proprio vi piace, grattugiateci la buccia del limone insieme al sale così che prenda un po' di profumo. Basta, fine, secco, così, basta. Mi devo dire che il tempo è scaduto, già scaduto. Siccome oggi ho due semiprofessionisti, non posso fare troppo il buono. Dai, dai, voglio i piatti. Se me lo fanno i miei concorrenti non professionisti, voi che siete già del settore dovete per forza rispettarmi i tempi. Giuria, io ci ho provato a dirgli che volevo soltanto un fritto buono, non troppe robe, fritto buono. Giovanni, i piatti sull'alzata, quella maionese non ce la mettere, fidati di Simoncino. Mirko, dai, vai. Se metti il miele sul fritto a mio padre ti picca. Sì? L'ha fatto un bel casino. Allora, non vi faccio mettere più mano sui piatti, l'avete salato, vero? Sì. Ok. No! No! Troppe cose danno alla testa. Concentratevi sul tema, ragazzi. Troppe cose, siamo dimenticati. Aia! Mirko? Sì? Mirko. Mirko. Non si è cotto, vero? Non lo so cosa hai fatto perché non ti ho visto, ma sembra nudo. È moscio, sembra moscio. Troppo, vero? Mi dispiace, ma il fritto croccante fatto bene, va fatto fritto bene, è difficile, lo so. È difficile perché non si mangia sempre bene il fritto. Non so perché, perché come ha spiegato Simone, non ci vuole nulla. Però vi perdete in queste sanzine, robette, miele, soffritto. Quello che sta dicendo Barù, entrambi, è che questa prova, la prima abilità, è piatto buono, punto. Dopo, la prossima, sarà anche creatività. Fizza bene il miele sopra, eh? Ah! No, io prendo per oro colato le parole di Simone. Senti, il mio fortunatamente è cotto, perché io dei tre sono quella che prende spesso bocconi e mezzi crudini. Stavolta è cotto. No, ma cotto è cotto, eh. E beh, dici poco. È moscio. È un pochino, moscettino. Poi sinceramente, a me, il miele sul fritto, a meno che uno non faccia, che ne so, un altro piatto dolce. Ci poteva anche stare il miele, ma col sale. Questo è su mele? Sì, è troppo dolce. Ma questo è su mele? Pera, caramellata. Pera caramellata. Troppo dolce. Non fa contrasto col sale, capito Mirko? Non c'è il sale. Non ho creato un crash. Al contadino non far sapere quanto è buono il fritto col miele e le pere. Era così? È meglio. Hai visto, hai visto? Al pescatore non faccio sapere. È meglio non fargli sapere. Guarda la moglie al pescatore. Vabbè, è un po' sincero. Al contadino perché ti picchia. Contadino ti picchia per aver messo il miele sul fritto. Non è fritto bene, sinceramente. Manca di sale, manca di croccantezza. L'idea è carina. L'insalata, secondo me, si poteva anche evitare, sia come tempi che come abbinamento, però il problema è proprio che il caramaro non è fritto bene. Probabilmente Mirko l'aveva messo per dargli l'amaro, radicchio. Allora, Giovanni, il signore degli anelli, come si chiama questo piatto? Questo era una tempura in calamari in tempura con la maionese invisibile. È leggera, è leggera. Un polpo di maionese invisibile ogni tanto ci sta. Molto light. Allora, lui le ha fatti impastellati. Farina Manitoba 00, riso con acqua gasata e prosecco. La famosa tempura veneta. Però sembra fatta bene. No, è fatta bene, è fatta bene. A mio avviso, si perde un po' il caramaro con tutta questa pastella. È bello il caramaro bello fritto croccante. De, è salato? Io non ci vedo il sale sopra, capito? No, l'ho messo nella pastella. Tanta pastella. Allora non l'hai salato, hai messo nella sale nella pastella. Però il fritto è per antonomasia un po' salatino. Eh sì. Cioè ci sta un po' di sale. Secondo me non è male. È bella, è croccante. Questa qui è croccante. Però se mi posso permettere, forse come direbbe Simone, se l'olio fosse stato un pochino più bollente all'inizio sarebbe stato meglio. Non male. Grazie. Prego. Grazie. È croccante il sabo? No. Il problema di questo calamaro è che mi ricorda un krafen che è stato cotto nel loggio dove avrà passato il pesce prima. La critica è molto spugnoso, barra, spapposo. No, il calamaro, la rondella di calamaro è troppo grande per questo tipo di cottura. La pastella è buona, ma manca totalmente di sale. Gli viene fuori un effetto dolciasto, probabilmente dalle farine che hai mescolato. L'olio non era caldo, quindi sotto è moscio e sopra appena appena un pochino più croccante. Però il tocco di maionese invisibile. Ci stava. Eh, meno male che non ce l'hai messa. Signori, questa è la riprova che anche il fritto non sempre viene col buco. Detto questo, anche il toto, il calamaro non viene col buco. Un po' di emozione, un po' di abitudine della cucina che va presa pian piano. Votate Mirko. Il tema era il fritto di calamaro. Lui l'ha fatto col miele, pazzo. Pazzo. Per poi votare ciò che... Pazzo. L'ardesia che teneva... Più cresce tra radicchio e miele, ma... Allora ragazzi, questo fritto era un po' pesante. Sì. Di voti. Sì. Ok, i voti non sono altissimi, una via di mezzo, ma vicini. 7 a 6 per Giovanni. Giovanni ha padellato in pieno la salsa. Però non era richiesta in questo tema. Mentre nella prossima prova vogliamo che il piatto sia buono, finito e anche un po' creativo. Quindi lì sì che puoi azzardare un po'. Ok. Va bene. Giovanni, sceglierai tu il tema della prossima sfida. Sì. Non adesso. Prima di tutto andiamo in pubblicità e chiedo dietro se abbiamo modo di fare qualche lancio di pizza. Torniamo tra poco. Via! Via! Io lo so fare, lo sa fare Mirko! Torniamo a qualche fiamma e abbiamo preso... Fateci vedere, mettiti qua, perché io sono veramente ammaliato quando vedo queste cose. È di silicone, questa è quella d'allenamento, giusto? Sì, sì, d'allenamento. Ecco, ho iniziato da poco e bisogna praticare. Fammi vedere un lancio. Lo fai il lancio? Sì. Ci proviamo così. Ehi là! Ehi là! Vai Barù! Vai Barù! Guarda là! Allora, perdiamo poco tempo, visto che... Il fritto di calamari siamo andati un po'... Così, così. Un punticino in vantaggio per Giovanni, quindi sceglierà tra mele o ravanelli. Mele. Mele. Più versatile. La mela è il frutto base per una prova di creatività. Il frutto del peccato. Diverse consistenze, diverse tipologie di mele, più croccanti e acide, un po' più... Sempre croccanti, più succose, più dolciastre, più adatte da cottura. Insomma, dal miele alle mele, visto? Dal miele. Il nostro Giovanni cosa tira fuori? Pane di segale. Cos'è questo? Questo è del formaggio spalmabile. Salmone affumicato, limone aneto, vai Mirko. Grande classico, questo qui, il limone ci sta bene, non troppi ingredienti. Bravo. Di qua abbiamo una cipolla rossa. Abbiamo all'oro rosmarino, finocchietto, abbiamo della granada di pistacchio, del pane in cassetta, tipo da panini, più che in cassetta. Curcuma. Sì, curcuma. Macinato di maiale. È chiaro. Ultimi secondi, un bel bicchierozzo di vino rosso, uova. Undici minuti da adesso, daglie. Grazie. Trattamelo bene. Assolutamente. Perché questo è un prodotto che a casa, i nostri amici telespettatori, che io non ringrazio mai, ma perché mi sembra una cosa un po' sviolinata, però grazie lo stesso, perché ci arrivano un sacco di messaggi, sappiamo che ci seguite tanto e noi siamo molto contenti. Grazie. Detto questo, adesso loro, grazie, loro a casa diranno. Aspetta un po'. Magari non tutti i giorni so i totani freschi, i calamari freschi, scusate. Però ci posso avere un salmone affumicato di qualità in frigorifero. Posso averci un pane, questo qui non è un pane fresco, cioè è un pane di segale tipico del nord Europa. Non è tanto nelle corde nostre di sapore, però è un grande classico abbinato al salmone, alla panna acida, all'aneto, quindi gli ingredienti sono un classico. La mela come la esalti? La mela adesso la taglio, la pulisco e la... Sì, scusami. Per favore, siete due semiprofessionisti, dovete fare le cose che io prego sempre di fare a casa, ovvero cambiare coltello se è sporco o se non è quello adatto. Come la usi questa mela verde, croccante, acida? La gratterò e la inserirò nella crema di formaggio. A crudo? A crudo, assolutamente. Ok. In padella c'è una noce di burro che servirà per? Per fare del crumble con il pane. Allora alziamola, perché l'hai messa a due. Sì, era solo per farla... Ma vuoi tostarlo o no? Sì, sì, dopo sì, era solo adesso per farlo sciogliere. Il limone? Il limone serve bene per non annerire troppo la mela, ma non so se lo userò. Sì, perché la mela verde diciamo che automaticamente è una di quelle che per il tipologia di acidità che ha dentro tende a non aderirsi più di tanto. Mirko, che fiamo? Allora, preparo la pannatura per la polpettina. Allora Mirko, ti sposto un po' di roba. No, ma più che ordine è che il vostro spazio di lavoro è il tagliere, no? Se ci lavorate incastrati fra gli ingredienti è anche pericoloso, perché se si lavora male è pericoloso. Ti servono le croste di pane? No, togliamo subito. Non le buttiamo perché magari ci faccio qualcosa e le prove. Allora, torniamo un attimo sulla ricetta. Impasto di maiale, pane grattugiato. No, pane grattugiato è per la pannatura. Ok, quindi questo pane si è colorato di curcuma? Curcuma e pistacchio, granella di pistacchio. La pannatura perché farai? Che cosa? Friggi ancora? Sì, una polpettina fritta. Occhio. Ora si friggia bene, eh? Sì. Ok, quindi controlliamo la temperatura dell'olio. Vettigli il sale lì di fianco. Sale sotto controllo. Sì, facciamo un pochetto. Ok, vai. Allora, come userai il vino? Allora, quella è la semplice riduzione che poi la mettiamo vicino e si prende un po' di riduzione, un po' di polpettina e mandi giù. Ok. Per mettere un contrasto. Ce l'avete ancora sei minuti per fare le riduzioni di vino, ci vorrebbe un bel po' di tempo. Beh, sì, l'ho messo poco apposta. Ma tu usi la mela per inserirla all'interno delle polpette? No, la mela ci facciamo una tatolata saltata con la cipolla rossa e usiamo come troppo. No, è che la cipolla ha bisogno di una cottura e quindi avrei messo subito la cipolla a farsi, capito? E se mi avanzassero delle bucce, le butterai nel vino io. Giusto per me. Allora, parto da Barù. Vieni da me, Simone. Una mela al giorno. Una mela al giorno che non mangio, purtroppo. Perché? No, 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 anzi, io faccio le centrifughe. Con la mela la uso come base di tutti i miei succhi e le centrifughe. Perché dà quel succo, dà anche un po' di dolce, non uso zuccheri, quindi uso la mela. O se no, nelle insalate. Qual è la tua preferita? Da mangiare così? La posa alla Livornia. La Golden. La Golden. La Golden. Qual è la tua mela preferita? Anurca. Anurca. Ma cruda o cotta? Perché l'anurca è proprio classica da cuoce. Simone, a me piacciono anche cotte. Ci faccio un buco in mezzo, ci metto un po' di burro, un po' di cocco, un po' d'uvetta, in forno e buonanotte. Ti dedico una ricetta dopo allora? Che è una cosa, una mela ricomposta. Va bene, magari. Saba che ci fa con le mele? Io con le mele ci faccio tante cose. Faccio le insalate con la Granny Smith, faccio al forno quelle gialle, mangio crude quelle rosa, le pink. E poi con le renette faccio la torta di mele, quella alla francese, con la crema. Pasta frolla, crema, pasticcera a limone e mele sopra. Potremmo dare anche una tartatenne. Potremmo dare anche una tartatenne. Se la tartatenne va fatta la pasta sfoglia a casa, e dovete fare la tartatenne con la pasta sfoglia pronta. Io adesso vado a dare la mia ricetta e fra un minuto e mezzo torno e voglio i piatti di sopra, non sgarreremo di un secondo. Prendete una mela gialla con la buccia, anzi no, peliamola, mi piace di più, pelata con il coltello. Togliete il torsolo con il togli torsolo, tagliate un pezzettino della base in fondo e poi affettate la mela, ovviamente orizzontalmente, quindi poggiata di fianco sul tagliere, in maniera molto precisa, con un coltello liscio, a lama non troppo spessa, perché se la mela è croccante se no vi si rompe, e fate delle fettine di circa 3-4 mm. Più sottile la fate, meglio è. Poi prendete una bacinella e ci aggiungete dentro lo zucchero di canna. Siccome lo zucchero di canna è un po' cristallizzato, io addirittura uso lo zucchero mascovado, che è uno zucchero di canna integrale. Lo passo nel mixer perché lo voglio più fino. E in quello zucchero ci aggiungo anche, se uso il mascovado no, se uso il canna ci aggiungo la cannella, perché sta molto bene con la mela. Prendo le mie fettine di mela e le tocco appena in questa panatura di zucchero, non devono essere completamente coperte, ce ne deve essere un po'. Cosa faccio? Quando taglio la mela non la mischio, lascio le fette una accanto all'altra, perché poi la vado a ricomporre. Quindi rimetto le solite fettine, come erano nella mela, una sull'altra con questa panatura. E le intervallo anche con dei fiocchettini di burro, tagliato con il coltellino e fatto cadere sulle fette. Come faccio a farla stare in piedi? Con due o tre spiedini infilati dall'alto nei tre punti a triangolo della mela. Li bagno, li stuzzicadenti, gli stecchini, perché sennò in forno mi si scuriscono. La metto su carta forno, metto una bella dose di fiocchetti di burro sopra, perché poi l'eccesso calerà, e le inforno così come sono. Questo taglio della mela permette sia una fuoriuscita maggiore di succhi, permette una caramellizzazione omogenea dello zucchero di canna e quello in eccesso, compreso il burro, fra strato e strato se ne andrà via. La cannella entra all'interno della mela come lo zucchero e vi rimarrà una mela un pochino più bassa rispetto dell'originale, perché perde liquidi, molto morbida e facile da mangiare perché è tutta a fettine. È molto bella, perché le fettine prenderanno un colore diverso una dall'altra, quindi chiaro, scuro, chiaro, scuro. Sembra quasi un alveare, visto così quando è cotta. Servito con un bel gelato sopra, pallina e se volete una fonduta di cioccolato 70% con il 50% dentro di panna. Scaldo la panna, metto il cioccolato e sciolgo il tutto sul fuoco, verso sopra e tutte le ragazze sono felici. Voglio i piatti sull'alzata adesso! Voglio i piatti sull'alzata adesso! Ammazza! Ah, hai fatto tipo un cheesecake! Ok, adesso ho capito. Mirko! Non è possibile, se non ce lo mettiamo. Mirko, ti lancio come la pizza ora, eh! Dai, dai, dai! Tanto amido lì dentro! Pronto, eh sì! Tanto amido! Stringi subito! Eccoci qui! Maiale e mele è un grande classico, è un grande classico! Allora, dico, che faccio? Inverto il senso o no? Ma no, tanto ce l'ha fumicato di là, va bene, va bene, va bene, due salati, va bene. Allora, nome del piatto, Mirko? Pork chops! Pork chops! Yes! È rovente questo coso, se mi lo metto in bocca! Sì! Sì! No, è uscito dall'olio tipo 22 secondi fa, circa! Ho cercato il più piccola possibile! Sì! Che è successo? È successo che te lo dice Barù, che è successo? No, che non è cotta, è un po' cruda all'interno, a me la carne di maiale non è che... Provo la mela, dai! Tanto la mela è una prova! Forse è la parte esterna, se vuoi provarla. Sì, dai, lo provo, lo provo giusto per vedere come... Sì! Non è totalmente cruda, Mirko, però il cuore è proprio crudo. Il cuore, sì! Croccante è croccante perché ha un rumore pazzesco. È buona, l'imparatura è molto buona, questa è una buona idea, carne di maiale con la mela ovviamente è un grande classico, specialmente per noi toscani, io la mangio sempre. Quindi creatività poca, la mela non è stata trattata... Mela a fette, così non è neanche tanto cotta. Quindi non vedo la creatività sulla mela, purtroppo. Devi concentrarti a fare meno, fai meno! Questa è un pochino... Questa è cotta, Mirko, di polpetta. Ok. Però è migliorato sul fritto, me l'ha fatto bene, c'è la croccantezza di questo cuore Meglio del calamaro, dai! È fatta molto bene. Bella, voluminosa, croccante. Buona! Ti verrebbe voglia di mangiare anche l'altra, non fosse che sai che è un po' cruda. La mela ha ragione lui, sembra una macedonia fredda. È un po' cruda, sai, ha preso la cipolla, ha preso di cipolla. Sì, Mirko, se volevi salvarti con la metà del lavoro, mettevi un dadino di mela dentro la polpetta che ti lasciava la più voluminosa e il maiale fuori e poi ti dedicavi a una salsa magari, perché per fare le mele cotte così ci vuole un po' più tempo. Ci vuole più tempo, certo. Tra l'altro questa cipolla è buonissima, questo tipologia di cipolla qua è veramente buona, è delicata, quindi aiuta il fatto che sia buona, visto che non è tanto cotta. Xaba, mi dici anche se ci sta bene il ristretto di vino? Che presumo di sì, per l'acidità o no? Simone, ha rivendicato il fritto però poi è caduto sulla buccia di mela. Perché la polpettina è venuta bene, la mia è anche cotta e fritta bene. La mela però, oltre al fatto che non è cotta, ha preso il sapore della cipolla troppo aggressivo. A quel punto l'idea della salsa a riduzione di vino andava bene se stufando la cipolla gli tiri fuori il dolce, ma se mi lasci la cipolla cruda, che sa di cipolla cruda, da insalata con la mela da insalata, la riduzione di vino aggiunge un'acidità che disturba. Quindi è solo un problema di cottura della mela. Peccato che la prova era sulla mela. Esatto, che il tema era quello. Andiamo a Giovanni che ha fatto della mela il profumo di una massa di formaggi freschi acidi che a mo' di brunch norvegese ha servito su un pane di segale col salmone affumicato. Effetto cheesecake. Sì. Bello, visivamente molto bello. Il fatto, la mia domanda adesso sarà, si sente la mela? Vuole finire Baru, eh? Vuole una fetta. Ti piace? Buono, fresco, la mela gli dà un bel verde, si senticchia un po' di più e sarebbe stato un piatto molto ben riuscito. Grazie. Comunque, bravo. Grazie. In che senso gli dà un bel verde? La mela verde, gli dà una freschezza verde. Ha un bellissimo taglio. Cioè, a vedere dalla forchetta, si mangia molto bene, ha una bella consistenza. Mi ripeti i formaggi che ci sono dentro? Formaggio fresco spalmabile? Formaggio fresco spalmabile e crema di mele. Ah, è basso, un formaggio spalmabile. Assolutamente. È buono, un po' troppo spalmabile secondo me e avrei aggiunto anche io un po' di mela. Naturalmente è molto godibile, se si può dire. Mela a dadini insieme al salmone così ti pulisce la bocca, l'affumicato. La consistenza è molto gradevole, mi piace tanto l'idea, la mela è solo un sentore, quindi se fosse stata una prova sul salmone, perfetto. Manca quella sensazione di pulizia, di freschezza del palato che la mela dovrebbe dare in questo piatto dove tu hai due elementi burrosi forti, il formaggio e il salmone. Mi piace l'alternanza delle consistenze, però la mela ce ne vuole decisamente di più e sicuramente anche metterla a buccia potrebbe aiutare. Bene, giudizi belli dettagliati per il lavoro che fate ovviamente. Votiamoli con il celeste, questo è il piatto di Mirko. Per poi andare al piatto di Giovanni, il tema era la mela, prova creatività. Allora, la creatività c'era tutta. Siamo saliti con i voti, mancava un po' la mela, 9 a 7 per Giovanni. 16 Giovanni, 13 Mirko. È in vantaggio, ma 3 punti non sono niente, soprattutto proprio il 3, perché basta alzare di un votino il proprio piatto e i 3 si passano. Non te la sto gufando, sto soltanto dicendo che non mollate perché c'è un'altra sfida. Vi dico solo questo, sarà una sfida molto fusion. Preparo io una base, anzi un brodo questa volta, molto semplice, che si chiama Dasci. Ma ve lo racconto dopo, prima mi mangio una mela. Ci vediamo tra poco. Bentornati in studio, amici di La Sette e amici della cucina. Qua si sfidano due quasi cuoco, un cuoco e un quasi cuoco. Comunque già chi smanetta in cucina. Giovanni è in vantaggio 16 a 13 su Mirko. Vieni di qua. Che facciamo? Mettetevi qui a fianco a me. Avrò bisogno di poco tempo oggi, perché in realtà la lavorazione più grossa la farete voi dopo. Di solito io preparo una base finita e voi dovete solo presentarla. Voi oggi non dovete solo presentarla, perché io vi preparerò un brodo che si chiama Dasci. È il brodo orientale per eccellenza che serve per poi produrre qualsiasi tipo di ramen. Che cosa sono i ramen? Sono dei brodi con all'interno diverse tipologie di elementi. Poi la ricetta si fa dopo, però normalmente c'è una pasta dentro, quindi un noodle o diverse tipologie di pasta. Perché poi cambia la farina con cui si fanno, cambia lo spessore, cambia da paese a paese. Però voi dovete metterci una pasta dentro. E quella pasta sarà in questo brodo aromatizzato, aggiunta di peperoncino. Vi spiego in generale come il ricetto del ramen è anche piuttosto piccantino. C'è quel peperoncino, si mette lo zenzero. Insomma, si mettono palline di pesce, palline di carne o funghi, a seconda di quello che è la ricetta finale. Ma il brodo è abbastanza semplice e quindi lo farò in poco tempo. Ma vi volevo parlare appunto degli ingredienti che servono, che hanno dei nomi strani, ma sono diventati comunissimi, cioè si trovano molto facilmente. A volte anche al supermercato si trovano, anzi adesso si trovano anche nei supermercati forniti, si trovano. Altrimenti erboristeria o posti che vendono ingredienti orientali. Allora, varie tipologie di alghe, spesso ve ne parlo. Questa è l'alga kombu, ok? Un'alga non tanto facile da mangiare così, infatti di solito si mette in infusione. È quella che io vi dico di mettere un pezzettino tanto, così, in cottura con i legumi perché li rende più digeribili, ok? Io questa alga la mollo leggermente, la lascio la mollo. Ah, queste cose qua non sono un cacio e pepe da mangiare, non sono così buone, ma fanno veramente bene. Quindi se volete a volte curarvi, leggetevi le varie proprietà delle alghe, le wakame, le ijiki, tutte quelle che vi pare. Ognuna ha delle grossissime percentuali di elementi che danno a unghie, capelli, pelle, pulizia del fegato. Insomma, ogni alga è curativa, infatti la medicina orientale deriva principalmente dal cibo. Questa alga, ammollata, io la vado a mettere nell'acqua. Ovviamente non ci vogliano 5 minuti come faccio io, ci vuole un po' più di tempo. La taglio. Questa si può anche non tagliare perché essendo così sottile, diciamo che il gusto lo lascio ugualmente all'interno del brodo. Poi ovviamente la filtro. Quello che invece vado a tagliuzzare, che non è l'ingrediente che va in tutti i dashi, è il fungo shiitake. Anche questo è un nome strano. Questi funghi, che sono anche questi riammollati perché si trovano anche freschi ma normalmente secchi, sono molto, molto carnosi da mangiare e sono stupendi. Hanno un gusto molto umami, come dicono loro, ma non saprei definire in un altro modo. Sono molto intensi di sapore. Dicevo che sono molto carnosi anche perché secchi e reidratati ovviamente prendono più gommosità. Ma non sono buoni solo da mangiare così, cioè non si trovano gli shiitake trifolati, cioè non è quella la ricetta. Ma si trovano spesso e volentieri nelle zuppe e nelle preparazioni brodose perché lasciano un gusto molto, molto intenso e soprattutto danno anche un po' di colore. Tendono a brunire piuttosto velocemente i brodi. Io li adoro, appunto li uso anche in qualche piatto di funghi italiano, piccolissime percentuali. Io ci faccio un brodettino per bagnare le mie vellutate perché danno una spinta bella e interessante. E li metto dentro. Una sorta di dado. Il dado proprio... Questo è molto migliore però... Sì, esatto, invece di usare un insaporitore ai funghi, questi visto che sono secchi, bravo, non è mai detto sbagliato. Però questo è completamente naturale, ok? Il sale non si usa praticamente nelle ricette orientali, si usa la salsa di soia che ha il sale dentro, in percentuale variabile a seconda del vostro utilizzo. Ma quello che non deve assolutamente mancare, quest'anno ve l'ho già fatto vedere, mi sa, in una puntata, è il cazzo bushi. Che cos'è? È un tonno seccato, quindi altro ingrediente conservabile, tutti e tre, che si taglia con una pialla o si trova in busta, già affettato così. Non è che darà il sapore di tonno, darà il sale, darà l'aroma forte e darà una bella spinta a questo brodo. Queste sfogliettine si sciolgono praticamente all'interno, sono sottilissime, queste scaglie. E poi le lascio sciogliere all'interno, ok? Tutto questo ambaradan, appena si è bello insaporito e si è infuso per bene, io lo filtro e vi do praticamente questo brodo scuro, che non è niente di bello da vedere, ok? Adesso questo brodo voi lo personalizzerete come vi pare, aggiungerete la pasta, aggiungerete gli ingredienti che troverete sul tagliere tra pochi secondi. Torniamo di là, Giovanni. Intanto questo era il dashi, provatelo perché è stupendo. Brodo sano, brodo sano. Vi darò delle indicazioni che stanno facendo, perché il brodo non è facile da impiattare, quindi cercate di far venire fuori gli altri ingredienti, va bene? Quindi il ramen fatto con il dashi è l'ingrediente base per la prova di presentazione. Un sacco di ingredienti sono arrivati, alcuni sono tendenzialmente orientali, quindi alganori, c'è la salsa di soia, verdure miste, c'è l'uovo che spesso e volentieri si trova nei ramen, vi ho rimesso i funghi, germogli vari, ci sono delle palline di pesce cotte, in questo caso è liquido perché si trovano spesso e volentieri queste palline, c'è di carica, insomma divertitevi un po'. Tre minuti soltanto e tre punti di differenza, via! Giovanni è in vantaggio, Mirko recuperiamo, dai! Allora, mettetevi gli occhi a mandorla. Saba, era un campanello? No! Vado direttamente via, così li lascio lavorare in pace perché il tempo è poco. Saba, ramen! Io lo faccio spesso a casa, ci sono anche tre versioni nel mio ultimo libro, puoi fare vegetale, di carne o di pesce, e visto quello che hai detto tu che fa molto bene, vorrei dire alle mamme come me che seguono di farlo bere ai bambini, gli piace, garantito, magari fatto con l'uovo, con il polpo o con il pollo, però è un antibiotico naturale, soprattutto se dentro ci mettete la pasta di miso, che gli dà sapore, un po' salino, quindi ai bambini piace molto e fa tanto bene adesso che fa freddo. Lei che ha questo gilet così ammandorlato. Ma io non so se vi siete intonati a questa casualissima cosa o siamo così, come si dice, telepatici. Sono molto ignorante di cucina orientale. Qui è un po' più difficile. Tu sai che per me passare dal timballo al tofu, gin tonic, ginseng, è dura. E poi dal gin tonic al ginseng si si passa malvolentieri a volte. E' buono, beh, pure dal timballo al tofu, Simo, eh. Però sono disposta, poiché vedo che va molto di moda naturalmente a Milano, anche a Roma, eccetera, così a imparare. Quello che dite, insomma, ramen... Allora, ramen è lunedì a Milano, novembre, acqua ruggiola che cade, cielo grigio, voglia di uscire di casa a meno 20, un freddo che si zizzola, come si dice da me. Arrivi a pranzo che hai voglia proprio di qualcosa che ti alzi anche la temperatura del corpo e che ti apra le vie respiratorie. Ti fai un bel ramen con l'aggiunta di peperoncino o ginger dentro, che sapete che fa molto bene, io l'amo. E ti mangi questo brodo che ti riempie, perché poi c'è la pasta e tanti altri ingredienti, molto leggero, molto sano e che ti comincia a far sudare se lo fate piccantino o gingerato. Ti piace il dashi? Cioè il ramen? Tantissimo, tantissimo e mi piace anche perché ci puoi veramente mettere un sacco di roda dentro. E anche solo di verdura. Dimmi come ti piace a te. Stavo dicendo solo di verdura? Pensa un po'. Perché veramente ha un sapore forte, c'è il brodo che ha molto sapore, quindi non serve neanche la carne. Anche a me piace le verdure con l'uovo dentro. Bravo Mirko, bravo Mirko, bravo Giovanni, stop. Bravo, 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 bravo. Un po' di... Vai, tutto sull'alzata. Grazie. Molto... Ma ce l'hai messo il brodo? Ce l'avete messo il brodo? Sì, sì, sì. Sì. Molto, molto poco. Sono stato io a dirgli di farlo asciutto, eh. Sono stato io. Sì, sì, ti ho sentito. Qua ce ne sarebbe brodo a copertura. Sì. Sì. Ma è molto, lo trovo molto bello Simone, non c'è nulla da dire, è colorato, allegro, un bel fondo verde che fa risultare tutto un po', fa pop, pop, pop. Bello, molto pop. Ok, grazie. Io non l'ho detto, però se si tratta di piatti così orientali, spesso e volentieri anche il modo di impiattarli deve essere molto giardino zen, di solito è molto pulito. Sì, 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 no, questo abbiamo usato da una cosa molto italiana. Oggi ci sta. Ma è poco orientale, però è fantasioso, l'estetica c'è, è una prova di estetica, quindi va bene. No, dai, se tolgo il vassoio sotto, che fa veramente tanta confusione, la parte rotonda mi piace, mi piace come hai messo l'uovo, non come l'hai tagliato perché è molto impreciso. Mi piacciono le palline di pesce sopra, che sono a te, mi danno anche una bella nota di colore. Il sotto rovina veramente l'impatto. Ti toglie i colori che sarebbero spiccati dall'interno. Invece, Giovanni. Anche te hai fatto un bel lavoro, mi piace come hai usato l'alga per dargli un certo nido. Certo, potevi essere un po' più ordinato magari dentro con gli, come si chiama? I germogli. Non era facile questo tema, eh? Difficilissimo. Non era facile, poi dentro la cocotte per forza. Beh, diciamo questo è un pochino più zen, è un po' più zen, è un pochino più semplice. Sì, dentro non è proprio allineatissimo, però secondo me stai sul tema. Sicuramente questo è più ordinato. È divertente anche come hai usato il foglio di alganori per creare una sorta di contenitore. Dentro è un pochino caotico, forse troppe cose, però l'insieme è ordinato. È soltanto l'interno che avrei tolto magari qualche pezzo di fungo shiitake. Comunque è molto credevole. Prima di andare ai voti, volevo avvertire, visto che abbiamo fatto una sorta di promozione a questo piatto poco conosciuto, ramen, che ha un grandissimo difetto questo piatto. Se l'ho mangiato al ristorante. Che il sottofondo dei ristoranti di ramen è questo. No, veramente, perché non è assolutamente maleducazione in Oriente, aspirare il brodo è tanto da mangiarlo con cocotte in mano, taglio gli noodle in bocca e bere. Come faceva sapere. Sono lunghissimi anche. Esatto, e a me quel rumore fa venire i nervi sotto pelle. Piacere tanto ai bambini. Piacere ai bambini, anche a mio nonno piaceva darmi fastidio succhiando il brodo della minestra. C'ho ancora dei brutti ricordi. Adesso votiamoli. Con il celeste, Mirko, il tema era ramen con il brodo di dashi. Oggi tanti termini strani, ma assolutamente con ingredienti recuperabilissimi da tutte le parti, anche nei piccoli paesi. E questo è il piatto di Giovanni. Sono tutti d'accordo, i miei giudici, sono andati esattamente allo stesso modo. 8 pari. Indi per cui Giovanni vince il nostro super kit. 24 a 21, i tre punti di vantaggio gli rimangono addosso. Sei stato piuttosto bravo, nonostante tu sia i primi approcci. Molto bene. Mirko, è stata un po' approcciata male quella sfida lì, troppe cose. E quello è mancato e poi i punteggi sono rimasti indietro. Bravo, ti vedremo a trovare al tuo ristorante con il tuo padre. Ora venite con me e vi presento la giuria che vi ha votato. Daffi o carbonara? Ramen o cacio e pepe? Sì, lo so, lo so. Ce l'ho tatuato nel collo io. Sono per il made in Italy. Ma ovviamente bisogna cercare di dare spazio a tutte le forme culinarie. Perché se ne ho fatte bene. E tutti questi piatti rivisti e corretti della mia giuria saranno disponibili sul sito di cuochefiamme.la7.it Domani? 10 soldi. A me qua sono un pesù. Un avocado. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.